gentili telespettatori buona giornata a Giancarlo Giorgetti numero due della Lega stanno arrivando strane proposte dagli amici di Luigi Di Maio sì è proprio così il retroscena è di Gianfranco Ferroni che nella sua rubrica in piazza veleni in piazza sul tempo riporta tutto con un misto di sconcerto e rabbia dice da qualche settimana al ministero dello sviluppo economico il ministero di Giancarlo Giorgetti gira una strana voce così bizzarra da sembrare una favola scrive sul quotidiano romano diretto da Franco Becchi se in ballo c'è ovviamente proprio il numero due di Matteo Salvini nel carroccio e capo delegazione della Lega nel governo sul tavolo del titolare del dicastero Giancarlo Giorgetti sarebbe giunta un'istanza da parte di alcuni ex collaboratori del predecessore Luigi Di Maio che se accolta potrebbe far cambiare il colore dei capelli al presidente della Confindustria Carlo Bonomi. Facciamo già un salto sulla sedia nocciolo di questa proposta strana considerare i soci delle società per azioni responsabili sul piano personale nei casi di insolvenza delle imprese da applicarsi come una sorta di estensione dell'amministrazione straordinaria delle persone giuridiche e quelle fisiche. Un precedente pericoloso sottolinea giustamente Ferroni a pochi mesi dalla serie di fallimenti che attraverseranno nei prossimi tempi il mondo dell'imprenditoria nazionale quindi aziende che falliscono l'imprenditore risponde personalmente con i suoi beni se non capisco se non ho decifrato male questo. D'altronde al Mise fino a pochi mesi fa il dominio era incontrastato del Movimento 5 Stelle anche se dopo Gigino era stato il turno di Stefano Patuanelli ma sempre dello stesso movimento. beh erano quelli che avevano abolito la povertà ecco altri tempi altri ministri non è più tempo di aver abolito la povertà comunque questa era l'indiscrezione uscita su su il tempo ma intanto vediamo vediamo altri altri video vediamo se trovo qualcosa di interessante su Virginia Raggi ci sarebbe un'altra indiscrezione sul party extra lusso che avrebbe fatto chissà chi le ha regalato la festa trovo scritto sul libero quotidiano da Salvatore Dama il 23 luglio del 2021 il libero e il giornalista scrive su libero un compleanno una festeggiata speciale Virginia Raggi un benefattore un hotel che appena ricevuto una concessione edilizia dal comune di Roma la storia ha tutti gli ingredienti per essere quantomeno curiosa e merita di essere raccontata dice Dama su libero lo ha fatto con molta cura nei dettagli il quotidiano domani dove si legge di questo party più o meno a sorpresa con una cinquantina di invitati ospitato dalla terrazza dell'hotel Bernini Bristol e pagato da Roberto Sorbello che è un collaboratore del sindaco di Roma primo elemento messo in evidenza dal giornale il luogo la struttura che dal vertice di piazza Barberini domina tutto il centro storico e di proprietà di Barnabó Bocca presidente di Federalberghi che proprio alcuni giorni prima aveva annunciato in compagnia della sindaca il via libera all'allargamento della struttura grazie a una licenza edilizia ricevuta dal comune di Roma e già qui ci sarebbe da fare ci sarebbe da dire che i grillini agli esordi esibivano fieri i loro piatti di ammatriciana serviti da arbuiccaro simbolo della loro diversità mentre ora cenano gourmet nei posti più esclusivi della capitale romana ma tornando a noi chi ha pagato non la raggi riferisce il domani ma Roberto Sorbello chi è si tratta di un collaboratore diretto della sindaca a titolo gratuito è il capo del cerimoniale del campidoglio quello stesso ufficio da cui è arrivata la lapide dedicata a Carlo Azzelio Ciampi senza la G ma non è stato lui a fare l'errore perché i protagonisti della politica li conosce bene avendo già lavorato al cerimoniale della camera dei deputati interpellato dal giornale di Stefano Feltri Sorbello conferma non dice quanto abbia pagato circa 5 6 mila euro ma chiarisce che è stato un regalo collettivo un gruppo di amici della sindaca si è messo d'accordo per pagarle la festa hanno fatto una colletta hanno dato i soldi a Sorbello e quest'ultimo ha strisciato la carta poteva non poteva secondo il regolamento comunale dei dipendenti non avrebbe potuto spendere un cadò più di 150 euro ma dal campidoglio precisano che è tutto regolare non si è trattato di un contributo a un evento elettorale ma di una festa privata a sorpresa oltretutto festa alla quale hanno partecipato tra gli altri l'ex premier Giuseppe Conte Luigi Di Maio e il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ovviamente all'alba di una campagna elettorale già complicata il fatto non poteva passare inosservato agli avversari politici della Raggi beh insomma festeggiare il compleanno sicuramente è un diritto della Raggi dice il consigliere regionale di Fratelli Italia Chiara Colosimo ma che un suo collaboratore organizzi un evento in un albergo che ha da poco ricevuto una concessione edilizia dal comune è una scelta che lascia alquanto perplessi dai paladini della trasparenza ci auguriamo la massima chiarezza il passaggio dal movimento 5 stelle all'hotel 5 stelle è stato è stato un attimo la sindaca Raggi chiarisca al più presto se c'è stato conflitto di interessi nel suo fastoso party di compleanno e beh insomma prendendo tutti i pezzi di questo party diventa una cosa un po' curiosa se mi permettete il termine l'albergo che ottene ottiene la concessione edilizia per allargarsi un party a sorpresa per la Raggi fatto dai suoi collaboratori un party di 5 6 mila euro nell'hotel che ha avuto la concessione edilizia un regalo di un collaboratore che lavora gratis per la Raggi tutta una cosa un po' eh e beh insomma eh non dico niente vero non dico niente arrivederci a tutti